Questo video ve lo faccio per necessità, perché mi chiedete sempre dove poter guardare determinati anime o dove trovarli. Bene, da oggi lo saprete. Vi chiedo anche di guardare tutto il video, in quanto prima vi parlerò delle piattaforme che portano contenuti licenziati in Italia, ovvero di siti che ufficialmente hanno acquistato i diritti di quelle opere per poterle tradurre e portarcele in italiano, sia doppiate che coi sottotitoli. Alcune di queste a pagamento e altre invece no. Per quanto riguarda invece tutti quegli anime che non vengono licenziati in Italia, beh, di quelli ne parliamo dopo. Io sono Axel e oggi finalmente risponderò alla domanda che mi viene posta più spesso da voi 4 o 5 persone che guardate i miei video e mi invogliate a portarvi altri contenuti. Dove posso guardare questo determinato anime? Beh direi di non tergiversare ancora con la intro. Iniziamo subito. Allora, prima di tutto vi avviso, sarà un video brevissimo, diciamo un piccolo extra che non pensavo di portare sul canale, ma di cui effettivamente sento ci sia la necessità. Prima di iniziare in effetti con l'elenchino partiamo dalle basi. Sapete cos'è un simulcast, sì? Io non voglio dare nulla per scontato. Le piattaforme di streaming trasmettono in simulcast un'opera il giorno stesso o quello dopo bene o male in concomitanza con l'uscita originale in terra natia. Che significa in parole povere? Che se in Giappone esce il terzo episodio di una serie di cui per esempio Crunchyroll ha comprato i diritti, il giorno dopo o un giorno prestabilito della settimana, salvo eventuali incidenti, lo potremo vedere direttamente sulla piattaforma e così via con gli altri episodi durante le settimane successive. Questo è il simulcast, ora direi di iniziare con l'elenchino. Partiamo subito con quelle più convenienti come Vid, che spero tutti conosciate. È una piattaforma gratuita che ha un solo difetto. Troppe pubblicità, e sì, sono d'accordo, servono per portare il contenuto gratuitamente, ma averle al centro di un episodio o ogni 5 minuti è molto fastidioso. Preferirei avere 15 minuti di pubblicità prima dell'episodio e basta. Comunque, basta iscriversi al servizio e pagando una quota mensile di 5 euro vengono rimosse, ma personalmente lo trovo il meno conveniente tra le più convenienti, però esiste ed è gratis. Poi abbiamo Yamato, che trovate su YouTube e che è totalmente gratuito, come tutti i canali YouTube sostanzialmente. È conveniente, porta un sacco di anime interessanti e soprattutto vi trovate entrambe le stagioni di Fire Force che, se non avete visto, vi consiglio di recuperare. Prima abbiamo parlato anche di Crunchyroll, un servizio gratuito come Vid, ma che non posso commentare visto che non ho mai usato Crunchyroll in quel modo. Preferisco soffrire del suo abbonamento che potete condividere con gli amici e di base 5 euro mensili. Lo consiglio soprattutto perché il suo catalogo ogni stagione è sempre fornito di opere di qualità e personalmente lo trovo uno dei migliori servizi di streaming. Ovviamente penso non ci sia nemmeno bisogno di parlarvene, se avete Amazon Prime conoscerete Prime Video, anche questo pieno di anime da guardare ed è estremamente conveniente dato che è compreso nel Prime che potete pagare 36 euro all'anno. Inoltre, non tutti lo sanno, ma se siete studenti universitari il Prime è scontato della metà e quindi ancora più vantaggioso. Passiamo adesso a Netflix, con un abbonamento di 8 euro al mese è quello che io considero ormai quello che dà meno vantaggi rispetto agli altri dal punto di vista degli anime. Infatti è vero che si può usufruire di tantissime opere e che comunque il catalogo è molto ampio, oltre agli anime presenti che sono quasi tutti di qualità eccelsa, ma rispetto a come era prima adesso è meno conveniente. Ad esempio ne è aumentato il costo, per i nuovi clienti non è più possibile usufruire della prova gratuita e la qualità video che propone la piattaforma per il piano base è veramente bassa. Purtroppo però Netflix ha i diritti per cose come la nuova stagione di Jojo o Jojo Stone Ocean, quindi se volete essere delle personcine a modo, per vederlo dovete fare questo sacrificio. E questi sono i siti legali che almeno io conosco e di cui usufruisco regolarmente. Ora, se siete arrivati a questo punto del video vi starete chiedendo, e per tutti gli anime non licenziate in Italia, come fai? Beh, a dirla tutta per quello non è un problema, basta cercare il nome dell'anime su Google più Subita se proprio volete essere impazienti, ma è una cosa che sconsiglio di fare dato che i primi risultati sono sempre quelli relativi a siti che ricaricano gli episodi subbati sia dai siti ufficiali che vi ho elencato prima che dai fansuber. Ecco, i fansuber, che cosa sono? Bene, vi do il benvenuto nella seconda parte del video. Partiamo con lo spiegare una cosa, i fansuber sono persone che si dilettano nel tradurre ed adattare gli episodi di un anime che non è stato licenziato in Italia, così da renderlo disponibile a tutti quelli che vorrebbero usufruirne, ma che a conti fatti non possono, perché magari non capiscono l'inglese oppure l'opera è così sconosciuta che se non fosse subbata in italiano da quel povero Cristo che lo fa per passione, gli unici a conoscerla sarebbero l'autore e sua madre. Ecco, questi sono i fansuber, dei fan che sanno molto bene l'inglese o più raramente il giapponese e traducono gli episodi per fornirli gratuitamente a noi spettatori, quindi quando mi chiedete dove poter guardare un determinato anime, come dovrei rispondervi? Con il sito fansuber adatto, ma siccome sono tanti, ogni volta sarebbe un casino, quindi facciamo così. Quelli che posso consigliare al 100% dato che li ho anche usati sono questi, SubZero, OwariSub e CrozisFansub. Per tutti gli altri che consiglio ma che dovrei ancora controllare meglio, beh, ve li lascio in descrizione, così come tutti quelli di cui ho parlato, ma se ve lo avessi detto ad inizio video non lo avreste mai guardato sino a questo punto, genio del marketing. Detto questo direi che abbiamo detto tutto, spero che il video vi sia utile e che vi sia piaciuto, fatemi sapere con un commento se mi sono scordato di qualche sito o se magari conoscete altri siti fansuber attivi da aggiungere alla descrizione del video. Vi invito come sempre a condividere il video con i vostri amici così da permettere a più persone possibile di guardarlo ed evitare di fargli usare via traverse per guardare le loro serie preferite. Ovviamente vi invito anche ad iscrivervi se non siete ancora iscritti così da non perdervi i prossimi video che usciranno e direi che per questo video è tutto. Noi come sempre ci sentiamo, al prossimo video.